Oikos è stato chiamato qui a Francesco Live, Francesco che vive, proprio per convocare giovani da tutto il Mediterraneo. Sono presenti 20 giovani da 9 paesi del Mediterraneo e con loro stiamo immaginando, sognando, stiamo guardando e costruendo una visione del Mediterraneo diversa. In realtà Firenze è un punto di avvio di un processo nuovo che continuerà nel tempo e che continuerà, la prossima tappa sarà poi Taranto, la Summer School di Ecologia Integrale del Mediterraneo, dove convocheremo 50 giovani dal Mediterraneo insieme a 15 docenti di diverse università del Mediterraneo, da Parigi, Nizza, Barcellona, la Cattolica di Milano, Roma, Bari. Ecco, abbiamo messo veramente un gruppo di docenti di alto profilo con cui i giovani si potranno confrontare e immaginare insieme che cosa può significare il Mediterraneo del futuro e come costruire percorsi per un Mediterraneo dove si convive insieme. Voi siete la rete francescana dei paesi del Mediterraneo, allora quanto è importante anche un lavoro proprio di collaborazione tra i vari paesi e anche tra le varie realtà francescane? È assolutamente fondamentale costruire reti che ci salverà, il principio di fraternità di Francesco che in questo caso diventa un principio di collaborazione, di innescare processi di rete. Noi siamo presenti in quasi tutti i paesi del Mediterraneo con presenze anche molto diverse, paesi cattolici e paesi dove siamo in minoranza, ma il nostro tentativo è quello di innescare delle reti di dialogo, di collaborazione che possano attivare dei processi proprio che aiutino alla convivenza e ad una de-escalation dei conflitti. Fondamentali i documenti di Papa Francesco, sia la Fratelli Tutti con la Laudato Si, ma anche il documento sulla fratellanza umana, quello firmato ad Abu Dhabi, che innesca proprio dei processi nuovi a partire da quello che è stato un incontro tra due folli, che era Francesco D'Assisi e il sultano Malik al-Kamil, che in un contesto di guerra si incontrano e innescono processi di dialogo che sono durati per 800 anni. Cosa spera che venga fuori da questo incontro qui a Francesco Live? Ecco, da questo incontro ci aspettiamo di risvegliare il sogno, di risvegliare una coscienza comunitaria, non solo personale, ma una coscienza collettiva, comunitaria, con la speranza che le cose possono cambiare, la speranza che noi abbiamo un potere, un grande potere che è quello di trasformare la realtà. Noi in questi giorni stiamo riflettendo sul sogno, ma anche sull'ombra dei sogni. Stiamo facendo un teatro delle ombre e allora queste ombre che possono distruggere il sogno possono diventare anche invece un grande alleato per poter costruire e immaginare questo futuro diverso.